Allora, l'ultimo caso, quello di stamattina, un bambino di 7 anni, punto da uno sciame di vespe. È l'estate la stagione in cui il pericolo delle punture di insetto diventa maggiore, complice il fatto che passiamo più ore all'aperto andando magari ad esplorare luoghi che storitamente sono il loro rifugio, prati, boschi e corsi d'acqua. In provincia di Arezzo ci sono stati ben 10 casi nelle ultime due settimane, tutti per fortuna con conseguenze non gravi, ma ad ogni modo è stato necessario l'intervento dell'ambulanza. La tensione va sempre tenuta molto alta, ci sono alcuni sintomi nell'arco di un'ora dalla puntura di insetto da tenere presente e nel caso allertare il 118. Se si manifesta un'importante reazione cutanea, quindi se un po' di arrossamento nella zona della puntura e gonfiore e dolore è normale, ovviamente perché il traumatismo c'è stato, però se compare una reazione diffusa al corpo oppure compare sensazione di chiusura alla gola, disfonia, quindi alterazione della voce, raucedine, gonfiore di labbra, occhi, lingua o quello che sia o qualunque, oppure addirittura sensazione di svenimento fino allo svenimento. Sono tutti sintomi che richiedono l'allarme precoce al 118. Ovviamente anche la paura può contribuire a dare alcuni di questi sintomi, però è sempre comunque meglio allertare il sistema d'emergenza e farsi vedere per sicurezza. Il ghiaccio dietro uno può non averlo, magari quello istantaneo potrebbe essere... Sicuramente funziona, qualunque cosa fredda che abbiamo a disposizione, se uno ha una bottiglietta d'acqua o di una bibita, un frutto fresco, qualunque cosa fresco che possa rinfrescare la zona sicuramente aiuta. Quello che aumenta anche l'incidenza del rischio è il numero di punture, perché se si viene punti più volte da uno sciame di vespe, di calabroni, di quello che sia, sicuramente il rischio di sviluppare una reazione anafilattica è maggiore e quindi è meglio farsi comunque vedere in pronto soccorso o chiamare il 118.